E a Riad il Napoli vince contro la Fiorentina 3 a 0, un Napoli forse meno bello, forse meno spettacolare, ma un Napoli comunque più cinico, che ha concretizzato le occasioni che gli sono capitate. Nel primo tempo la partita è risultata un po' bloccata inizialmente, ci ha provato Politano, poi alla Fiorentina viene annullato un gol per posizione di fuorigioco, ma è poi il Napoli a sbloccarla, perché il Napoli, grazie a un'ottima giocata di Wagesus, che taglia tutta la difesa della Fiorentina, favorendo poi la giocata di Kvarascheglia per Simeone, e lo stesso Ciolito riesce a sbloccare la gara. Questo è importante perché il Napoli da qui in poi prende sicurezza, nonostante la Fiorentina provasse attraverso il palleggio, attraverso la manovra, a creare pressione in area del Napoli, ma il Napoli si è difeso bene, i tre centrali hanno funzionato e insomma il Napoli ha retto il tentativo di pareggio della Fiorentina, che poi poteva arrivare nei minuti di recupero del primo tempo per un rigore concesso appunto alla Viola per fallo di Mario Rui su Icone, lo stesso Icone ha preso la palla e ha tentato dal dischetto di sorprendere Gollini, ma il giocatore della Fiorentina calcia veramente molto alto. Qui si apre una parentesi, ancora una volta l'italiano non riesce ad individuare il rigorista giusto per calciare i rigori, quindi da qui scatterà sicuramente una sorta di polemica nei confronti della scelta di italiano, ma nel secondo tempo è sempre la Fiorentina ad avere in mano la partita, a creare gioco, comunque attraverso il possesso, attraverso la manovra e la pressione che il Napoli comunque ha retto, sempre appunto grazie a una fase difensiva molto attenta e quindi la Fiorentina non è riuscita a trovare, nonostante la vemenza insomma della squadra di italiano, la zampata vincente ma poi è il Napoli che chiude la pratica con un super zerbin perché nei cambi nel secondo tempo entra il giocatore forse anche un po' a sorpresa al posto di Mazzocchi e realizza una doppietta sorprendente, oltretutto gol bellissimi, il primo gol è stato servito da Di Lorenzo ma poi il giocatore ha sbattuto la testa contro il palo, è uscito momentaneamente e nel momento in cui è rientrato ha segnato il terzo gol, quindi insomma la serata, il protagonista di questa serata è un super zerbin così, a sorpresa e il Napoli è la prima finalista di questa super coppa di Riyadh, adesso aspettiamo naturalmente la vincente tra Lazio ed Inter, un bacione!